Continuano ad aumentare i contagi nel comune di Laurino, a farlo sapere il primo cittadino Gregorio Romano che in una nota scrive, cari concittadini purtroppo anche oggi si registra un incremento di positivi e dei ricoveri in ospedale, anche sulla base dei risultati dei tamponi effettuati agli studenti allo Stato risultano 33 positivi, un tampone da ripetere, sei ricoveri in ospedale. La situazione è sempre critica ed è costantemente monitorata. Le autorità sanitarie e Dipartimento di Prevenzione, con cui sono in continuo contatto, non ritengono opportuna l'adozione di ulteriori misure se non il controllo del rigoroso rispetto di quelle già adottate. Si ribadisce che l'unico modo che abbiamo per combattere il virus è quello di evitare contatti, evitare assembramenti e frequentare luoghi pubblici solo per i motivi indicati nell'ordinanza sindacale dell'1 giugno 2020. Le stesse autorità sanitarie hanno ribadito che eventuali altre azioni, screening o altro, potranno essere prese eventualmente in considerazione una volta superata l'attuale fase di criticità.